Immergersi nel verde del San Bartolo per elevare rispetto per la vita sulla terra. Il punto 15 dell'agenda ONU 2030 diventa il tema della seconda edizione di EcoFest, la rassegna che lega natura, rispetto per l'ambiente, benessere e sostenibilità nella splendida cornice della Fondazione Oasi di Claudio Balestri. Una cassa di risonanza tematiche ambientali quanto mai attuali di fronte all'imprevedibilità climatica che sta lasciando i segni sul nostro territorio. Il tema è rispetto per la vita sulla terra perché dobbiamo avere il rispetto in tutte le forme possibili, il rispetto per l'ambiente, il rispetto per tutto ciò che ci circonda, per gli animali, ma il rispetto anche per la nostra salute perché comunque anche noi siamo parte di questa terra. Cerchiamo di essere un po' a 360 gradi un luogo, un contenitore di dare dei suggerimenti, di dare sempre quegli spunti utili ad avere questo rispetto. Il modo di incontrarsi, di incontrarsi anche tra creativi, artisti, bambini, laboratori e vivere la natura del San Bartolo che sappiamo è bella, delicata, che va rispettata e fragile come abbiamo scoperto e riscoperto anche in questi giorni, ma anche un modo per vivere la sostenibilità come forma d'arte, come forma di espressione. Quindi una tre giorni veramente significativa, ripeto, in un weekend che sarà anche un weekend di rilancio del turismo provato anche dalle difficoltà di questi giorni e miglior messaggio che può nascere dal cuore di un parco naturale, appunto quello di ripartire sulla creatività per quello che è anche lo spunto 2024 della natura e della cultura. Un evento che valorizza pieno l'unione fra natura, cultura e sport che per il presidente del San Bartolo, Silvano Leva, è frutto di un proficuo lavoro di squadra. Stiamo cercando di mettere in piedi attività culturali e per esegistiche per il parco, per quelli che amano il parco, non quelli che lasciano le cartace in giro, non quelli che sparlano, non per quelli che fanno sciacallaggio quando non serve. Dal 2 al 5 giugno, quattro giornate in cui respirare il rispetto per la terra a 360 gradi. È un programma veramente molto molto ricco, che parte da tutta una serie di attività per il benessere della persona, quindi da yoga, meditazioni, poi ci sono delle attività per i bambini, dei laboratori creativi, dove i bambini possono giocare con delle cose che prendono dal territorio, con i colori, poi ci sono delle attività per il benessere fisico, quindi nordwalking, trekking, ci sono approfondimenti sull'erbe, il riconoscimento delle erbe, che è un altro tema veramente molto 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 importante per il territorio. Ci sono dei seminari che riguardano come vivere bene, che è un altro tema molto importante che sta al cuore, alla fondazione. E un terzo tema che forse non solo si aspetta è come colore influenza la nostra salute e il nostro benessere. Il colore visto dal punto di vista del Feng Shui, che è l'armonia dell'uomo nel contesto della natura, ma anche il colore delle erbe, il colore dei fiori, perché anche questo colore qui influenza tantissimo la salute. Dalla fondazione c'è un tramonto meraviglioso verso tutta la riviera adriatica e le tre giornate delle attività fisiche sulla fondazione, sul logo della fondazione, ci sono la prima serata, venerdì 2 giugno, c'è un concerto dall'orchestra di Rossini di Pesaro, quattro stagioni di Vivaldi. Il sabato invece c'è un programma con Roberto Mercantini, che fa dei monologhi veramente meravigliosi, e Jacopo Fo, che anche lui farà tutto un suo monologo sul territorio, sul tema della salute e della sostenibilità. Tutto il programma si conclude con lunedì 5 giugno, che è la giornata mondiale dell'ambiente, dove si terrà una tavola rotonda per parlare del tema una pianta per l'ossigeno.